ciao questo è un nuovo video che il solito che faccio sui sui film che riesco a guardare che a parte che magari è un film vecchio che l'avevo già guardato più di una volta forse anche di cine che ogni tanto me lo vado a riguardare che da quando sono piccolo che in questo tipo questo film lo conosco che sicuramente molte persone lo avranno sicuramente visto una volta nella vita che volevo dire po di e visto che maria sul mio canale ultimamente stavo portando certi film ma gli volevo mai dedicare un video anche su a questo film che voglio parlare di di gremi così dice gremi lis che un film dell'84 che qua che qua in italia è uscito alla metà di no e di novembre dell'84 che come regista e questo giudante e come sceneggiatura e questo di questo chris columbus che parla più creato di questi proprio di questi cuccioli di gremi lis che questo gio è questo ragazzo giovane che si chiama billy accoglie ma nella nella sua casa questo proprio un cucciolo di crimini e primi 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 che che doveva fare che quando gli arriva marea in casa di seguire delle fare attenzione a 33 semplici regole che non lo deve mai bagnare mai tenerlo e tenerlo lontano dalla dalla luce intensa e non dargli mai mai da mangiare dopo la mezzanotte che altrimenti le conseguenze che possono arrivare potrebbero essere catastrofiche che che magari durante il film magari sgara ma questi gremi lis aumentano sempre di più che magari anche come come si dice come firma il solito oro un po fantastico che due a quei uno e tre quarti che 2 1 1 e 46 di film che adesso a parte rimasti certe volte magari lo passano magari anche in televisione se no magari se uno magari acqua che è abbonato magari acqua che magari piattaforma e certe volte magari ho visto che lo passano magari anche 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 gratis come 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 film però visto che magari uno di quei film magari storici che sicuramente la maggior parte delle persone sicuramente come film questo palo lo conoscono che ho visto che a parte che io avevo visto solamente il primo e dopo hanno scoperto qualche solamente magari qualche anno fa che 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 si dice avevano fatto anche il proseguimento di questo che hanno fatto glimlis 2 la stirpe continua che l'avevano fatta nel nel qualche anno dopo nel nel 90 che durava 156 minuti che che hanno fatto una spesa hanno fatto questo continuo quei sei anni dopo ma ma magari il secondo non ha avuto così così magari tanto successo come magari il primo però visto che hanno fatto anche il secondo con la stirpe continua però come i film ho visto che essendo mai il solito fantastico è uno che si dice che uno di quei film è magari storici che sicuramente magari uno deve deve come si dice vederlo almeno una volta magari nella magari nella vita che certi film storie vecchi magari degli anni 80 90 e molti sono passati magari anche nella storia confronto magari certi che stanno magari uscendo magari anche anche adesso che ultimamente magari stanno più più che altro ma stanno facendo visto con altri film più che altro stanno facendo dei remake e dei rifacimenti di film a mai vecchi e portando ma è sempre solite cose però magari certi film e mai come resti qualche anche se sono fatti magari si vede magari che possono essere sembrano i film vecchi però si sono fatti bene ma è come questi qua restano sempre magari belli anche se dopo anni che certi film che sono usciti magari e anche ultimamente anche se magari su certe cose si sono magari aggiornati insomma è meglio sicuramente questi tipo di film anche se sono magari degli anni 80 così che li voglio tipo dedicare un video sul mio canale visto che oltre magari ai soliti magari fumetti e manga sul mio canale porto anche anche questi questi anche magari film e niente che magari come in ogni video che faccio sui film avrei sotto in descrizione lascio il solito video trailer con la trama il cast dei degli attori che hanno partecipato che lo si può trovare ancora su certe piattaforme a pagamento se qualcuno ha qualche abbonamento lo poi guardare sicuramente ho visto che si può guardare anche gratis o magari ho visto che è anche spesso lo possono magari anche in televisione questo film e questo film che lo poi volendo magari si aspetti ma è il momento giusto lo puoi anche magari guardare gratis nella televisione normale e su su qualche pata forma su qualche piattaforma e niente che li voglio proprio dedicare questo video a al green list che vuoi che mi ha guardato da piccolo e niente che quello che potrò magari dire su questo video magari l'ho già detta e al massimo ci vediamo sicuramente magari più avanti con i miei soliti video che porto magari sul sul mio canale e niente per adesso magari vi saluto e ci vediamo ci vediamo al prossimo video ciao